La nostra rubrica racconta di storie di vita, di esperienze, di talenti, di percorsi, di luoghi. Oggi vogliamo raccontarvi la storia, ritengo, di un talento. Sono contenta ed orgogliosa di dire che raccontiamo la storia di un talento tutto lucano e in particolare della nostra terra, della terra del Vulture. Penso, naturalmente questo è un mio pensiero, che sia una prestigiosa penna lucana. E' con noi Emilio D'Andrea, giornalista, scrittore, poeta, non lo sapevo, una personalità poliedrica. Emilio intanto benvenuto a TG7 Basilicata e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, bentrovati. È un po' che non ci vediamo come colleghi. Non per ricambiare gli elogi, forse i miei sono un po' imeritati, ma Angela era una colonna dell'informazione lucana negli anni 80-90 perché è stata una pioniera del giornalismo di questa zona e ha dato tanto. Quindi sono contento di averla ritrovata. Anche tu perché poi abbiamo fatto anche un'esperienza di giornalismo insieme, è stato un piacere, siamo cresciuti insieme, quindi sono esperienze che comunque arricchiscono. Ti ringrazio Emilio, io sono veramente contenta di incontrarti nella nostra rubrica. Sai perché Emilio? Io ecco ti ho lasciato giornalista e ti ho incontrato, poi ti ho ritrovato scrittore. Sì, è un percorso umano ma anche interiore, anche letterario perché io fin da ragazzino amavo sempre scrivere. Passando tre mesi all'anno d'estate con i miei in campagna ho avuto questo contatto diretto con la natura e allora non c'erano tutti questi telefonini, questi strumenti tecnologici che ti proiettavano e ti collegavano col mondo esterno. Allora bisognava parlare con i grilli, con gli uccelli, con gli alberi e quindi stavamo lì. Cosa, scusami se ti interrompo, che è una cosa che si dovrebbe riprendere forse anche adesso ai tempi di oggi? Infatti il mio ultimo libro, oltre a voler lanciare un messaggio di buoni sentimenti e di ricordare, non di ritornare indietro perché la nostalgia fino a se stessa non aiuta nessuno, ma di riscoprire certi valori, questo libro vuole essere un contributo in questo senso, è anche un forte appello per la salvaguardia ambientale perché noi siamo nati e cresciuti in una regione bellissima, in una zona che si chiamava l'Isola Felice e che i problemi di inquinamento e quant'altro non esistevano, quindi si beveva l'acqua addirittura di ruscelli, mi ricordo. Emilio, tu hai accennato già al tuo ultimo libro, poi arriviamo perché vorrei parlarne ampiamente perché penso che sia davvero molto interessante per i suoi contenuti e soprattutto per l'idea che è veramente originale, e poi spiegheremo perché. Intanto tu comunque al tuo attivo hai tantissime pubblicazioni che io non sapevo, parli di donne, ci sono poesie, parli del tuo paese, ecco a me piace questo, che tu racconti, ti racconti, come hai detto tu prima, hai accennato, e racconti la tua terra fatta di tradizioni forti, si sa, nella nostra zona sono molto forti le tradizioni, una cultura di folklore colorata nella formazione, nei valori di un tempo, oggi questi valori forse si sono un po' più sbiaditi, e tu hai fatto accenno che tu hai fatto ecco proprio questa esperienza di vivere in campagna che ti ha aiutato non solo in maggio nella vita, ma anche ecco in questa attività che stai facendo. Tantissimi premi, riconoscimenti, ottima critica. Sì, sì, certamente diciamo poi tutto può migliorare, tutto è perfezionabile, se si leggono i miei primi versi di 30-40 anni fa si vede che c'è stato anche un percorso. La poesia non è tecnica, per certi versi lo sarebbe anche, però la poesia è un momento del cuore, un'ispirazione dell'anima che ti viene e che tu la metti e la scrivi per te innanzitutto e poi per comunicarla agli altri. Poi naturalmente crescendo e maturando, leggendo anche, perché noi scrittori dobbiamo soprattutto leggere, è un invito che faccio a tutti, scrittori e non, perché la lettura comunque è una compagnia, è conoscenza e ti dà anche una certa serenità, diciamo, quando nei momenti di introspezione. E quindi c'è questo percorso partito dalla poesia, dalla poesia giovanile, sfoghi di gioventù, di primitito, di ritagli di parole, per arrivare poi i foglie sul lago, prendevo Monticchio, i momenti in cui cadevano le foglie, questi innamorati che si prendevano, si lasciavano, ecco, la vita, i sentimenti, ma anche poesie che parlano della nostra quotidianità, del vecchietto che ti regala fiori all'uscita del cinema senza chiederti nulla e tu gli dai una cosa, gli dai una castagna, una mela. E poi dalla poesia i racconti, racconti, diciamo, fra virgolette autobiografici, ma che si inquadrano in un contesto più ampio. Ecco, storia di un esame, quando si andava a fare gli esami a Bari, all'università, con i mezzi di Allori, Pullman, le 500 scassate, che parlavano di questo studente, che probabilmente ero io, ma parlavano di una condizione di tanti ragazzi che cercavano di emergere con lo studio e l'università e di avere un futuro un pochettino più dignitoso e più agiato. Poi i racconti, le fontane dei ricordi, quando sono stato un po' di apripista su questo e sono orgoglioso, andando a riscoprire le fontane, la funzione delle fontane sociale, culturale, antropologica, quando le fontane erano il momento di incontro, quando non c'era acqua nelle case, solo i pochi privilegiati e ricchi l'avevano nel fontanino e quindi si incontravano contadini, pastori, ragazzini, le donne che facevano il bucato, anche i nobilotti si incontravano intorno alla fontana per parlare. E poi il mondo in un bicchiere. Era la piazza di oggi. Era la piazza di oggi. Il mondo in un bicchiere, il vino, l'aglianico del vulco, con i ricordi, i racconti dei nostri nonni, la venuta di Pasolini a Barile. E poi i soprannomi che abbiamo fatto con la scuola, con la scuola media, con la maestra Belluscio ed altre maestre che abbiamo portato ai bambini i soprannomi. Attraverso i soprannomi hanno scoperto il suono dell'albanese, perché io sono di origini, diciamo il mio paese appartiene a quelle minoranze etnico-linguistiche che sono gli albanesi d'Italia, i cosiddetti Arbrecht, che sono veramente un patrimonio culturale e è stato riscoperto. Io quando feci il consiglio regionale fui il primo in Italia a proporre quella legge per promuovere e salvaguardare le minoranze etnico-linguistiche, quindi i soprannomi, le scene, i bambini che si sono avvicinati all'Arbrecht, perché poi l'Arbrecht aiuta anche nella lingua, soprattutto nella grammatica. Noi per esempio A con l'H e con l'accento non li sbagliamo mai, perché facciamo una traduzione simultanea con l'albanese, quindi non li sbagliamo mai. E poi anche quando studiamo le lingue straniere, F, H, l'H aspirata, perché le abbiamo nel nostro linguaggio parlato. E poi è arrivato altre, la notte delle muse, gli occhi delle donne, dove veramente quando in quegli anni la recrudescenza sulla violenza femminile stava veramente, purtroppo ancora oggi si registano. E allora io con quella poesia non si poteva certamente risolvere il problema, però ho voluto dare il mio contributo a quel problema partendo dagli occhi di una madre agli occhi di una compagna, agli occhi di un'amica, di una collega, agli occhi di una figlia, perché gli occhi delle donne, veramente, anche nei momenti difficili, c'è scritto anche quando piangono, riescono ad indicare una strana, a dare una luce. E poi siamo arrivati a questo romanzo. Quindi sai cosa stavo pensando? Tu hai fatto così un riassunto un po' diciamo delle tue opere. Tu hai cominciato, come dici prima, in temi non sospetti. Quanto invece alcuni argomenti, Emilio, oggi siano proprio molto attuali? Parlo anche, ad esempio, delle stesse tradizioni che hai raccontato, questi piccoli aneddoti, un po' racconti del tuo paese, no? Certo. E di quanto le giovani generazioni abbiano bisogno oggi di queste cose, vero? Ma certamente, perché noi avevamo la fortuna di avere i nonni intorno al caminetto, oppure gli anziani sul marciapiede vicino casa, perché allora il bello era questo, negli anni quando erano i social. Perché noi soffrivamo di questa loro saggezza, la memoria storica popolare di Barile, ma che poi la storia di Barile è un po' la storia di tutti i paesi. Era un po' di tutti i paesi, certo. Del nostro vulturo, della Lucane del Meridione. Sì, certo, del sud. Quelli erano la vendemmia, la mietitura, il vino, l'olio. Erano feste. I messieri, la rotino, lo spazzacamino, quello che raccoglieva la morga d'olio, le donne non si perdeva niente, tutto era riciclabile. Le donne, le massaie, si pettinavano e raccoglievano questi fili di capelli. Passava questo poverino e gli dava un ferrettino, una conchetta e poi con questi capelli lui li vendeva. I capelli delle bambole erano capelli veri allora, erano le parrucche, quindi era tutto un rigenerarsi. Quindi diciamo che noi eravamo questi anziani che ci raccontavano tutto, anche se poi ci mantenevamo fra di noi. Però c'era sempre l'anziano vicino che ti trasmetteva e c'era anche un po' il controllo sociale, cosa è una parola brutta oggi per i giovani, controllo. Era un controllo benevolo, un controllo non paternalistico o diciamo oppressivo, un controllo benevolo perché se succedeva qualcosa c'era subito il vicino di casa, il vicinato, l'anziano o la donna. E poi si condivideva anche. Ma certo, perché nella miseria c'è più solidarietà. Nella povertà, esatto, c'era molta solidarietà, questo stavo dicendo. Eh sì. E come ritieni, come insegnare ai ragazzi questo? Mi è venuto in mente ad esempio perché non fare degli incontri con degli scrittori come te o da altri nelle scuole? Sì, io più di qualche, le Fontane dei Ricordi per esempio è stato adottato anche in parecchia scuola di Nillo Tempore perché aveva un appendice didattica dove i ragazzi dovevano andare a visitare i luoghi, quindi conoscere il paese, a visitare la fontana, a raccogliere il mustio e quindi c'erano anche questi strumenti per addentrarsi nella storia locale, capire il simbolo del paese, che cosa significa. Certo, almeno di conoscere dove si abita. Eh sì, perché poi questo ti aiuta anche a voler conoscere gli altri posti. Vediamo, a Rio Nero è uguale, a Mervi c'è qualche differenza e quindi si cresce in questo senso, l'abbiamo fatto. Oggi è un po' più difficile, però attraverso i sociali, attraverso gli strumenti moderni che talvolta degenerano in situazioni negative, però sono uno strumento validissimo, come la transumanza per esempio, è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, un bene veramente. Ecco, tu hai anticipato, io adesso volevo passare proprio a questo argomento che è il tuo ultimo libro, tra l'altro è stato pubblicato nello scorso mese di luglio, Tutti i colori dell'arcobaleno, la transumanza perduta. Bellissimo, non solo come nell'argomento che ha scelto Emilio, ma la copertina, il disegno che veramente ricorda quei disegni, sai quelle spensieratezze, quei tempi forse andati di cui oggi forse si ha bisogno, considerato un po' il momento di crisi è difficile veramente per tutti. Ecco perché è stata bella anche questa chiacchierata tua leggera ricordando cose del passato che forse vanno veramente riprese e rivisitate e rivalutate. Dunque dicevamo, il tuo ultimo libro sulla transumanza, Emilio a me è piaciuto tanto questo argomento perché ecco come detto tu sono cose che trovano origini molto indietro nell'antichità ma sono di una bellezza che non conosce tempo perché quando si vedono queste mandri, queste mucche, questi animali che passano in questi pascoli e quindi si spostano dalla pianura, dalla Puglia e attraversano queste terre, quindi tratturi, quei piccoli paesini dove uno si ferma e quindi arrivano in montagna, è veramente uno spettacolo bellissimo ma che non tutti forse conoscono e apprezzano. E allora come ti è venuta quest'idea della transumanza? Sì innanzitutto volevo, siccome hai parlato della copertina, volevo ringraziare l'amico e artista collega Salvatore Malvasi che da vent'anni abita, è un lucano come noi, da vent'anni vive a Barile, ha dipinto anche il fontannino di Barile, la fontana del palazzo a Barile veramente si spende molto con la sua arte a valorizzare quelle che sono le nostre peculiarità e con me gli ho fatto reggere a suo tempo una bozza, un po' la sinossi del romanzo, lui subito ha fatto questo capolavoro perché per me è un capolavoro dove c'è l'arcobaleno, dove c'è il bambino, il protagonista, poi c'è il santuario di Pierno perché ricordiamolo questo romanzo parte dalle murge pugliesi di Spirazona, Altamura e Gravina, attraversa il nostro Vulture e poi si svolge soprattutto nei boschi bellissimi di Pierno, Sanfele e Bella, soprattutto di Bella poi ha un ruolo particolare il paesino di Bella, a parte che c'è una sua storia dove va anche indicato il motivo perché si chiama Bella, ma proprio perché poi lì si sviluppa un grande sentimento. Il titolo già spiega molto tutti i colori dell'arcobaleno, i colori sono un simbolo di luce, di speranza, l'arcobaleno è qualcosa di bello che viene sempre dopo il buio, dopo la tempesta e io credo che questo libro parla di sentimenti, dove ci sono i sentimenti c'è vita, ci sono emozioni, sogni, ci sono anche delusioni, anche patimenti, però credo, ed è raro che sia il contrario, che dove non ci sono sofferenze, patimenti, privazioni, difficilmente c'è la voglia di riscattarsi, di crescere, di risalire la china, la china che è una qualsiasi tunnel, di uscire dal tunnel, qualsiasi tunnel, interiore, sociale, familiare, chi più chi meno abbiamo vissuto momenti, diciamo, di defiance e questo libro parte da tanti momenti critici, poi se si pensa che parte dagli anni Sessanta, quando le famiglie erano patriarcali, quando alcune situazioni sociali erano molto retrograde come mentalità, diciamo questo libro veramente affronta questa tematica della sofferenza, della privazione e quindi tutti i colori sono poi il riscatto, sono i momenti in cui la natura con i suoi chiaroscuri, le sue cose, le sue luci, aiuta l'anima, aiuta lo spirito e concede a questo ragazzino la possibilità attraverso un viaggio, che poi il viaggio della transumanza, ma può essere il viaggio della vita, il viaggio della speranza, il viaggio che hanno compiuto i nostri avi di Marco Polo, di Colombo, i tanti viaggi che nella letteratura, nella fantasia, ma anche nella vita reale hanno tracciato il cammino dell'umanità, del singolo ma anche di comunità e quindi poi c'è il sottotitolo la transumanza perduta, la transumanza naturalmente perché è incentrato a come traccia fondamentale questa transumanza che come dicevamo prima, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, beni materiali dell'umanità dal 2019, la regione Basilicata ha promulgato anche una legge che deve tutelare perché la Basilicata, la Calabria, un po' tutta l'Europa ha vissuto la transumanza fin dai millenni, nei tempi dei Romani, anche nei tempi preistorici quando c'erano i popoli nomadi che poi diventarono da guerrieri diventarono pastori erranti, quindi c'è tutta una storia, i tratturi ci sono ancora in Abruzzo, in Molise, anche da noi è rimasto qualcosa, questi tratturi che erano un cammino anche un crocevia di incontri culturali, fra popoli, fra contadini, fra montanari, boscaioli, pastori ognuno portava chi aveva il suo santo, però poi c'era questo incontro, questo scambio E' vero Emilio, immagina quanti incontri che si facevano e quindi quante storie che nascevano E anche qui c'è un incontro, uno scambio proprio di abitudini, di culture, di paesi E ci si arricchiva attraverso questi scambi, poi c'era una grande solidarietà fra boscaioli, pastori e contadini, oltre mantenevano anche il baratto come scambio, perché non è che c'erano tutti questi soldi e poi in montagna, allora io ti do la cacciotta e tu mi dai il il pollo, ecco c'erano queste forme di scambio, il baratto che fu la prima moneta, diciamo fra virgolette, dei popoli primitivi, dei popoli delle palafette e man mano ci arrivarono le civiltà, gli imperi dove ci fu il conio, ci fu le monete che sono anche storia della nostra umanità, attraverso le monete si ripercorre tutta la storia del mondo, dell'Italia perché attraverso le monete si ripercorrono anche i momenti dei passaggi delle dinastie, dei regnanti eccetera, ma tornando al nostro romanzo, diciamo che proprio questa forza di sapersi integrare, anche questo era importante, perché oggi si parla tanto di integrazione, di migranti, io accennavo pure prima i viaggi dei disperati in fondo al mare purtroppo, perché c'era questa capacità di volersi aiutare uno con l'altro, oggi un po' manca, un po' diciamo il mondo è cambiato naturalmente, ci sono situazioni di persone che ne approfittano pure, sia gli speculatori, sia coloro i quali non sono veramente persone, però l'accoglienza con chi soffre, con chi ha bisogno, questo è un fatto che ci hanno inculcato i nostri noni, i nostri genitori e a loro i loro avi, perché la Lucania, poi il meridione è stato un crocevia di popoli, alcuni erano invasori, non dimentichiamolo, però molti popoli facevano commerci, non dimentichiamoci i fenici che furono i primi a attraversare il Mediterraneo su barche veramente altro che bagnarole, però portavano commerci, quindi il commercio, lo scambio culturale è sempre stata una cosa che ha contraddistinto soprattutto il meridione d'Italia, naturalmente le invasioni poi quelle fanno pure parte della storia e bisogna sempre portarle nel momento storico in cui si viveva, è chiaro che Giulio Cesare era un invasore, però all'epoca quello era il sistema imperiale delle dominazioni potenti, occupavano e portavano anche civiltà, se quei popoli fossero rimasti allo stato primitivo non credo che alla Germania e alla Francia di oggi naturalmente si sarebbero evolute e civilizzate, ma non avrebbero avuto quell'input che l'impero romano, che il codice legislativo romano, che tutta la legislazione, che tutta la cultura romana ha comunque loro inculcato. E quindi questo romanzo parla anche di questo, parla di queste cose e tocca anche argomenti importanti come la salvaguardia ambientale, la tutela dell'ambiente, non a caso cito Pasolini forse indegnamente, c'è anche la providenza del grande Manzoni che ha nei suoi promessi sposi, la providenza qui è intesa providenza per chi non crede, ma come miracolo per le persone che credono, infatti il santuario di Pierno ha una storia sua fin dal 1900, la Madonna e questo bambino usufruisce anche per certi versi. Quindi ci sono anche aspetti religiosi nel tuo romanzo? Certamente, ci sono aspetti mistici. Il bambino che arriva al santuario di Pierno, della Madonna di Pierno. Certo, certo, arriva lì e vede questo, ma che ci fa questa casa, questa chiesa in mezzo a questi buchi, che ci fa? Se lo chiedi, la chiesa sta in un paese dove c'è gente, che ci fa? Per lui era una cosa straordinaria ma incredibile. E poi arriva questo eremita che non ha vissuto a Pierno, perché allora non c'era, quando lui non c'era ancora, c'era la chiesa naturalmente, ma non c'era ancora l'insediamento dei preti. Però questo eremita ha vissuto veramente nei boschi del Vurture, frate Renzi ha voluto lasciargli il suo nome, oggi non c'è più purtroppo, ma in queste terre ha lasciato molti buoni insegnamenti e quindi questo prete lo prende per mano, coglie i suoi tormenti interiori, lo aiuta, lo aiuta, gli dà tanto e quindi si scambiano, si danno, si parlano e da questo nasce la vita, nasce il rapporto e poi c'è un grillo parlante, mi sono rifatto pure a colludi, scusatemi se sono stato così vanitoso, ma mi piace anche ripescare nella letteratura, la bella letteratura, i pilassi della nostra letteratura nazionale che poi è internazionale e questo è un po' la coscienza del bambino, la coscienza sociale che cerca di fargli capire, nonostante lui abbia solo 10 anni, lui attraverso queste visioni cresce e vede questo grillo che gli racconta un po' del mondo, questo grillo che gli spiega alcune cose che lui comunque nei limiti della sua età, Emilio cos'è la coscienza? La coscienza, forse oggi sarebbe opportuno di tanto ascoltarla, siamo tutti un po' in crisi di coscienza, diciamo così, per salvare un po' tutti e tutti i capri e cavoli, però ecco anche questi momenti diciamo riescono a dare un qualcosa al lettore senza voler per carità avere la presunzione di indottrinare o di lanciare messaggi, lo scrittore scrive Certo, ma anche perché poi dipende come arriva poi a ciascuno nella lettura, perché ognuno può cogliere, ciascuno può cogliere degli aspetti diversi in base alla propria esperienza, preparazione o in quel particolare momento in cui si legge, quindi non è che un libro, certo ha quel messaggio, però quella direzione, però viene comunque captato in un modo diverso da ognuno di noi, è un po' come la poesia, quindi tu hai voluto lanciare questo messaggio intanto della comunione, è quello che ho capito, giusto, della comunicazione, della condivisione Certo, diciamo prima è un po' come la poesia, il poeta la scrive nel suo stato d'animo, nella sua ispirazione, è una sua figlia, un suo figlio, però i figli si sa, poi non sono tuoi, cammineranno con le loro gambe e incontreranno il mondo, è così la poesia, è così il romanzo, diciamo, anche il romanzo poi viene interpretato e questo romanzo diciamo io l'ho scritto perché, come dicevi tu, la comunione, ma anche la memoria, la memoria non come nostalgia o come mero ricordo, la memoria da tramandare, la memoria dei buoni sentimenti, la memoria dei valori della terra, poi un libro fra le sue piccole grandi cose ha anche la forza, la sua piccola grande forza è anche quella di far rivivere anche chi non c'è più, anche per esempio ho voluto dare ai due amici coprotagonisti di Vito che è il protagonista, il nome di Ciccio Ettore, chi non si ricorda dei due gemellini di Gravina scomparsi nel 2006 in quello scantinato, nascendo in quello che sono precipitati e sono stati trovati, ecco io ho voluto, siccome c'erano questi ragazzi di Gravina, suoi coetanei, ho voluto dare il nome di Ciccio Ettore e che hanno vissuto e hanno avuto una bella vita, ecco il sogno di poter dare anche a chi ha avuto una vita sfortunata, una fine veramente prematura, drammatica e tragica, ecco la scrittura ha queste piccole, non che uno vuole sostituirsi a Dio o a Gesù che fa resuscitare l'altro, per carità, lungi da noi siamo dei comuni mortali, non è questo, è come dare un contributo, ecco, voler dare, ma chi so questi qua, ecco e allora anche chi non ha vissuto con i momenti di Gravina, non per soffrire, ma per capire che la vita è fatta anche di momenti brutti e che soprattutto quelle cose si potevano evitare, e non solo Vito, anche personaggi realmente vissuti che io ho voluto trasferire in questo romanzo in maniera, diciamo, un po' diversa, però ho fatto rivivere parecchie persone, un papà, una mamma, uno zio, il salumiere, il pastore, il farmacista, cioè persone che sono rimaste nella memoria, che sono al di là del loro nome, del loro aspetto fisico, però sono personaggi che in quegli anni lì hanno fatto un po' la storia e bene o male avevano un collegamento fra loro, qual era questo collegamento? L'umanità, il vivere insieme, perché anche il ricco non era esageratamente ricco e il povero pur da povero aveva una sua dignità, ecco questo, oggi ci sono disparità enormi, la distribuzione della ricchezza è veramente disumana e sproporzionata, questo libro vuole far riflettere anche su questo, naturalmente, poi dipende da noi, saper attivarci e cercare di fare le cose che il mondo nuovo ci propone, ecco l'ambiente, la natura. Ecco, infatti mi è piaciuto molto anche questo aspetto che hai sottolineato nel libro, Emilio, parlavi di un'educazione ambientale, perché tu racconti poi naturalmente, narri il paesaggio, di questo, tra virgolette, pellegrinaggio che avviene, no? Dalla collina alla montagna, attraverso i luoghi, i percorsi, ecco abbiamo detto il santuario della Madonna di Pierno e quindi i boschi, beh parliamo oggi di una zona che è parco e quindi che tu cosa pensi? Che comunque vada rilanciato, vada rivalutato, vada valorizzato? Il parco del Vulture e tutti i primi parchi d'Europa furono fatti in Italia, quindi c'è questa cultura del parco, naturalmente bisogna accompagnare questi processi con le legislazioni mirate che non vadano poi ad essere un ostacolo per le già disastrate piccole realtà produttive della zona, quindi il parco è una cosa ottima, perché sappiamo bene gli scempi ambientali che si sono verificati negli anni del boom e anche dopo gli anni 80, dopo il terremoto, quindi sicuramente va accettato con grande soddisfazione, però bisogna comunque coinvolgere i comuni che ci sono naturalmente, ma anche le realtà produttive, queste piccole aziende che stanno cercando un mercato di nicchia con i nostri prodotti tipici, in cui si parla molto di prodotti caseari, ho cercato anche di dare nel mio piccolo un input alla bontà di queste genuinità, perché ci sono le aziende moderne, però le aziende che si difanno ai vecchi sistemi produttivi con le genuinità dei prodotti e quindi hanno un valore sul mercato inestimabile, quindi il parco sicuramente… Sì, ma il problema, scusami se ti interrompo, che noi lo sappiamo, ma non vengono rilanciati, ci vantiamo sempre, ed è giusto che sia così, comunque della genuinità dei nostri prodotti particolari, genuini, soprattutto oggi che si parla di qualità dei prodotti del made in Italy, ma come mai, qui sono apprezzati ma poi non trovano spazio nel resto del paese, per non parlare poi all'estero? Diciamo che ci sono anche alcune ditte aziende che sono riuscite a sfondare nel mercato internazionale e anche internazionale, naturalmente sono mosche bianche che hanno bisogno di essere prese come esempio, da noi manca un po' lo spirito della cooperazione, in Emilia Romagna, in altri poi hanno fatto dei marchi e vivono tutti, con la loro piccola differenza, però c'è un disciplinare che regola il prodotto, io mi ricordo quando ero piccolino io, ragazzino, e allora ogni cantina di Barilla aveva il suo, questo è il vino, il migliore è il mio, e ogni vino era diverso, perché chi lo faceva? Certo, ognuno aveva un modo di farlo, prima di tutto poi lì si trattava anche di dove era posizionata il vigneto, perché se è più in montagna, se è più a sud, se c'è il vento, se c'è il sole, poi il contadino e il vignaiolo se lo faceva fermentare qualche giorno in più veniva più a mano, invece bisogna dare un marchio unico, ci sono gli usciti, c'è un disciplinare regionale, ci sono degli enologi bravissimi, saluto il nostro Fabio Mecca di Barilla che è veramente un giovane che ha creduto in questo lavoro che nessuno quasi conosceva e che si sta affermando in tutte le realtà delle grandi aziende, grandi e anche piccole, lui aiuta anche quelle piccole a creare, ecco questo è la spinta che dobbiamo fare. La capacità, come hai detto tu, di aggregarsi, magari forse comunque di valorizzare, di dare quella spinta in più per rilanciare. Certo, questo dobbiamo fare, nel rispetto delle leggi naturalmente e nel rispetto di ciascuna individualità, perché poi siamo sempre individui che viviamo insieme e dobbiamo fare un percorso quindi per concludere il discorso che dicevi tu del parco, tu dicevi di coinvolgere le aziende locali, grandi o piccole che siano, i piccoli produttori, sicuramente il Presidente, sappiamo che il parco è uscito da un lungo periodo di gestione commissariale, adesso c'è il nuovo Presidente Donato Spertuto che saluto, che sicuramente è uno che vive nella nostra zona, che vive in una zona montana, San Fele, quindi conosce. È stato capace anche comunque di rilanciare il suo piccolo borgo, possiamo dirlo, con le cascate. Le case albergo, le cascate. Ecco, questa è la famosa capacità di cui parlavamo prima, Emilio. Quindi senza voler fare piageria nei confronti di nessuno, ma ha da poco preso in mano e già ho sentito qualche sua intervista e mi sembra che siamo sulla strada giusta. Senti Emilio, questo è chiaro che, come ce l'hai raccontato, ci viene voglia subito di leggerlo e quindi lo consigliamo a tutti, questo libro sulla transumanza, che per vedere come finisce poi questa storia di questo bambino, di questo ragazzo che fa questo cammino ecco insieme con i suoi animali. Di cosa non scriveresti mai? Ma vedi, la mente è uno spazio diciamo sconosciuto, è così anche la scrittura. Io credo che anche, certo è bello scrivere di buoni sentimenti, di storie che comunque... Di belle storie, Emilio, anche considera oggi, i telegiornali di oggi, le notizie di attualità A me piace scrivere, abbiamo bisogno di cose belle. Ma sicuramente, io infatti questo libro è un inno alla vita, un inno all'amore, un inno alla comunità, però credo che, per esempio in alcune mie poesie, anche diciamo in tempi in cui la vita ti riserva momenti meno solari, ci sono alcune poesie anche abbastanza crude, ma anche qui ci sono scene molto ma molto crude, perché la vita è fatta di luce e di buio, di buio, di l'arcobaleno, la vita umana, cioè la vita e la morte, c'è anche l'aspetto della morte che molto è trattato in maniera anche abbastanza dura certe volte, però la morte è la conseguenza, è il cammino, è il rovescio della medaglia della vita, quindi anche la morte nella sua drammaticità, irreversibilità, nella sua... va presa in considerazione, c'è chi riesce ad accettarla attraverso la fede, c'è chi riesce a dire vabbè quando ci sta la morte non ci sono più io, come dicevano alcuni filosofi importanti, però anche qui la morte è prematura, c'è un bambino che muore in età veramente tenerissima, la morte di un caro, l'infanticidio, il femminicidio affronta anche questi problemi, quindi i buoni sentimenti sì, ma devi pure capire che cosa c'è dietro per arrivare non solo a professare, ma anche a cercare di provare, a cercare di abbracciare i buoni sentimenti, perché l'uomo è fatto di bene e male, ecco c'è anche il bene e il male, in ognuno di noi purtroppo nella nostra mattice genetica esiste anche la sopraffazione, parlavamo di guerra, dicono qui l'uomo è stato anche cacciatore, ma allora lo faceva per necessità, oggi magari questa violenza inaudita di sopraffazione questa non è giustificabile, oggi nei tempi nostri, parla della guerra, il suo maestro che gli racconta della guerra, che era stato proprio in Russia sul Don, quindi gli dice che la guerra è un male e quindi anche l'attualità, si parla di malattie, il Covid, allora c'erano altre forme di malattie, le bambine che morivano per mancanza di servizi igienico-sanitari adeguati, la morte infantile prematura, insomma tanti aspetti che credo che questo libro, questo l'editore che ringrazio mi ha dato subito fiducia e poi un grazie a mia moglie che mi ha aiutato tantissimo, ho dato tanta pazienza, guarda… Ebbè certo, comunque le mogli hanno il loro ruolo importante, diciamo, almeno chi è che ci tiene, insomma comunque da il contributo, poi conoscendola e la saluto, non avevo dubbi su questo perché è veramente una cara donna ed è importante, guarda, che hai anche questo aiuto, non solo dal punto di vista, mi permetto Emilio, materiale, anche perché le donne sono sempre ben più organizzate, ma anche proprio dal punto di vista anche spirituale, umano e quindi anche quell'appoggio, quel sostegno che ci vuole e che so che la tua cara Carmela è ben dotata di questo, di questo non avevo dubbi. Emilio, senti, quanto è importante l'aspetto religioso nei tuoi scritti? È importante, è importante perché noi siamo nati, noi Arbresh, gli Arbresh sono un popolo che sono venuti in Italia proprio per salvaguardare, per tutto la vita perché gli ottomani li volevano o a uccidere o a servire, ma il loro credo religioso, i loro cristiani per non sottostare a un dominatore hanno preferito attraversare l'accoglienza, l'emigrazione, l'immigra, attraversare il mare con poche cose, con il loro sapere, con il loro bagaglio per salvaguardare la loro fede. Quindi noi abbiamo, come Arbresh, abbiamo questo legame con la fede cristiana e con la Madonna di Costantinopoli, che Barile c'è un santuario che loro hanno eretto, non loro, i loro seguaci e noi di Barile, anche voi di Rionè, la famosa sciombria di Barile e quindi da bambini abbiamo vissuto questa fede. Poi diciamo che quando nei momenti difficili le nostre mammi, i nostri genitori ci insegnavano la preghiera, quando tornavamo spaventati per un qualcosa, una bomba che era scoppiata, perché c'erano resi libri, succedevano queste cose nei paesi, oppure un fulmine, oppure un amico più grande che ci aveva fatto quella piccola violenza e con la preghiera, non ti devi indicare, ti devi difendere perché è giusto che tu dici, prega, prega la Madonna, che la Madonna e questa cosa ce la portiamo dentro. Poi il fatto della fede è un fatto soggettivo ed è un fatto, diciamo, a San Tommaso, se rompete non crede, poi ci ha creduto lo stesso. Quindi la fede è importante nei miei scritti e credo anche nella vita quotidiana, perché anche chi non ha fede, però, riesce ad avere una sua, anche un laico, credo che può avere una sua fede nell'altro, nel tendere la mano all'altro, nel vivere una vita onesta, nel vivere una vita che, certo, ogni uomo ha una sua lungimiranza, ha delle sue aspettative, ma se lo fa nei limiti della legge, senza calpestare i piedi agli altri, credo, anzi, magari se si prende per mano con qualcuno che fa la stessa strada per un percorso più o meno lungo, sia una cosa positiva. La classica domanda che si fa ad uno scrittore, qual è il tuo progetto nel cassetto? Intanto dobbiamo presentare questo libro, lo avremo a Barili il 15 ottobre, ci sono una serie di altri appuntamenti a Spinazzola, a Potenza, a Lago Negro, a Merce. Hai un bel da fare, allora. E poi c'è un altro romanzo un po' diverso da questo, che spero di non aspettare otto anni come questo, ma di farlo nel giro di qualche anno. Emilio, ti ringrazio di quello che ci hai trasmesso, perché, vedi, io ho notato una cosa, che in ogni risposta che hai dato ci hai sempre messo la tua esperienza, i tuoi ricordi, i tuoi valori, in ogni risposta che hai dato. E questo significa molto perché vuol dire che sei un uomo che scrive col cuore, non lo dico perché ti conosco, perché sei davanti, ma perché lo penso e lo sai. Però ecco, lo possono notare tutti da come è risposto. Parli di sentimenti, parli di ricordi, parli di memoria, parli di chi non c'è più, parli di amore, parli di quei valori, ecco, di una persona piena. E questo è veramente bello e ti ringrazio, perché almeno a me hai trasmesso questo. E ti auguro veramente un buon lavoro con questa tua bellissima attività. Grazie a te Angela, mi hai messo veramente a mio agio. Spero di aver reso un po' l'idea di quello che la mia scrittura propone. Ringrazio la vostra televisione, non perché mi ospita, ma che da anni che collaboro e poi è sempre presente sul territorio, valorizza tanti di quegli aspetti, perché di questo abbiamo bisogno. Comunicazione positiva, costruttiva, cultura, proposta, partecipazione. Grazie Emilio. Poi a Dio piacente vediamo di incontrarci di nuovo e ci aggiorni così sulla tua prossima pubblicazione. Ringraziamo anche Pino Di Lucchio per quello che hai detto tu, ecco, come ideatore, il direttore editoriale di TG7 Basilicata che dà l'opportunità, ecco, proprio di questa conoscenza, di questa crescita, di questo confrontarci, questa comunione sui diversi argomenti e grazie anche per le immagini che ha fornito per le riprese e per il montaggio. Grazie, alla prossima.